musica musica arrivederci ragazzi io sono giai al studio oggi ragazzi siamo qui per fare una nuova parodia insieme all'ina iphone 6s nuovo di zecca mi sono comprata qualche giorno fa con la partner di youtube Sì Mi sento realizzata di aver detto questa cosa Oggi ragazzi siamo qui a fare la parodia della ragazzina Che canta i big time rush La canzone i big time rush Quindi ragazzi cominciamo subito così Il video senza perdere il tuo tempo Tutto al contrario Che cacchio se ne frega Buonasera a tutti Ciao Io sono Sì ma ti ricordi il nome tuo No perché Stai un po' a fare i giochetti di parole Non so forse un po' di memoria E te ti scordo il nome Oggi vi canterò Una canzone di big time rush Che si Titola big time Rush E' abbastanza famosa Anzi tanto famosa Los Angeles Anzi troppo famosa Anzi tantissimo famosa Anzi la conoscono pure su Marte Però non tutti la conoscono Ma come no? Che è tanto famosa Che la conoscono fra un po' pure su Saturno Su Marte Va bene Va bene Va bene Va bene Però io sì E beh certo perché tu sei una pimpà speciale Perché se non la sapevi te Cioè figa bordello Non lo sappia nessuno Che vivo in Italia Brava No Non l'avrei mai detto comunque Cioè Porca Italia Pensavo che veniva tipo da la Cina Così da Al Polo Nord No Vabbè Dettagli In Toscana A Prato Sì A Sanremo A Sanremo A cantavamo Cosa? Io le parole Le dico quando tipo La professoressa mi sta interrogando Non mi ricordo qualcosa Quindi comincio Tipo a fare Rush Rush Oh 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 Eh Eh Io pensavo che con passare dei minuti migliorava la canzone Zì Ma andò sta l'inglese tuo Tu lo sei scordata No perché cioè Oltre a scordata il nome Te sei scordata pure l'inglese Rush Rush Oh ma te scordi sempre Oh ma che c'hai Alzheimer Ecco perché te sei scordata pure l'inglese E il nome tuo Porella mi dispiace per te Dispiace E così via Ah quindi loro cantano a un certo punto tipo fanno E così via Yeah oh Yeah oh Oh yeah oh Così via Così via Credo che alcuni di voi lo conosca Ma come? Ho detto che poche persone lo conoscono Tra cui te E come puoi pensare che la gente che te guarda Può conoscerli? Becca stecca Non ho capito un'ultima frase Peccato Beh ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Per questa però ti raggiungiamo i 300 like Per un prossimo video Grazie a tutti quanti per aver visto questo video Però ragazzi se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Un'altra volta Se siete ancora più belli Seguite su Instagram Facebook Periscope Ho fatto anche un gruppo Telegram Tutti i link sono qui sotto in descrizione E niente ragazzi Ma non c'è proprio qua Ci vediamo al prossimo video A me spero che io lo so Qua qua Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti